Non niente da fare, un film distratto e al tuo nuovo gabbo Sono il 2004, sì, sono dei migliori Valerione No, sto scherzando Capiano almeno il ciclo, mi auguro, eh Vabbè, il 2004 c'è un 17 anni, cioè, nel senso, sono belle, grosse Ma crescono bene adesso Ah, voglia! Infatti io ho paura sempre a chi è dell'età, infatti mi hai salvato perché sei maggiorenne, però... Pericolosa, c'è gente pericolosa in giro Ma di dove sei? Secondo te? Di Roma Di Milano, c'eri quasi Ti stai più a per culo, no? Però vivi a Milano Ma io non lo conoscevo in realtà prima Cioè, non so cosa ti faccio Aspetta, ti faccio capire di chi stiamo parlando, intanto tu Valerino davanti Eh, mbè Mbè Quanti like si sono? Non li vedo 115.000 Eh, lo rifarei domani uguale Ma scusami Valerione, ma chi ha criticato questo video? Vedi che è la cosa di paglia No, perché ti hai fatto... Ora ti faccio vedere... Di chi stiamo parlando? Eh, perché ho detto che sei un simbolo italiano Valerione, cosa di paglia, eh? È un po' lì che brucia? Eh, dovevo dire Non sei mai cambiato, eh? Dal 2018 che fai sti casini Ma qual è? Ma qual è? Ma pure Però di solito lui ce la fa, eh? Ti hai tenuto capoccia, brava Mi sei piaciuto No, io... Ma io glielo ho sempre detto da subito Cioè, secondo me è una bella persona, simpatica, eccetera Quindi... Però non te la do Se devo trovarmi qualcuno con cui scopare Sicuramente non mi piglio uno, altro un 90 Che abito in Emilia Romagna, cioè... Però se vuoi vengo a Milano No, sono di... Sono il vero Però devo venire a Milano Questivamente E vabbè E vabbè E quindi E quindi 3, 4, 8 Sono molto aperti Dico tutte le cose Nooo No, ma no, ma no Io pure sono un botta aperto, te lo giuro Io prima quando mi sono seduto sul bracciolo della sedia Ero molto aperto Adesso un po' di meno Ciao